Tutti, tutti quanti, oggi stiamo qua, poi non è una cosa seria, ma molto seria. Ora stai viaggiando, stai finendo in direzione ai tuoi, vedendo quest'anno, tu vai per te, non puoi per te, questo Covid, non ti ha fatto, non ti ha fatto, non ti ha fatto andare a Malta, non in Spagna. Ti blocco, ti blocco. Adesso, vi faccio il video, vi faccio il video, vi faccio il video, vi faccio il video. Allora io, vi faccio il video, vi faccio il video, vi faccio il video, vi faccio il video. Io sono di Roma, fratello, io sono di Roma. Io ho Roma, io ho Roma, Carbonara, Maricciano, che vinciamo. No? No? Ok, hai due Carbonara. Cioè, tu gli dici Carbonara? No, quelli che ti portano. Quindi, mi fa una pasta. Oh, è duro come un stelcio. Dopo, invece di guanciale, ti metto una pancetta. e poi dopo ti si fanno occhi dei buoi se mi avete buono infatti vi dico ai paesi esteri non provate a far carbonara, madriciana grigia calcio e pepe non ci provate perché perdete perdete esteri non provate fare le cose vostre noi fanno le cose vostre vuoi fare le cose vostre e siamo tutti veri ok? quindi ecco non stare attenti se non viaggiate stare attenti non andrete a mangiare questo video è tutto un saluto da un saluto un bacio e ci becchiamo al prossimo video a saluto di San Diego baby a pochi video di dopo questo video ce ne saranno molti altri molti altri baby ciao belli a saluto a saluto a saluto Grazie a tutti